Non smette di sputare lava il sistema vulcanico della penisola islandese di Reykjanes. È la sesta volta da quando si è risvegliato lo scorso dicembre, dopo quasi 800 anni di quiescenza, aprendo enormi crepe nel terreno a nord-est della cittadina di Grindavik, evacuata da allora. I funzionari islandesi hanno detto che ha eruttato uno solo dei crateri e che il flusso di lava è rimasto confinato al cono vulcanico, lontano dalle infrastrutture minacciate le volte precedenti. La protezione civile ha infatti abbassato il livello di allerta.